Due gruppi criminali gestivano in cambio di soldi il traffico di migranti proveniente dall'area balcanica. Uno aveva a capo alcuni kosovari, residenti sia in Italia sia in Svizzera, l'altro era composta da italiani e macedoni. E' quanto emerso dall'inchiesta della DDA di Palermo che ha portato al fermo di 17 persone accusate a vario titolo di associazione delinquere finalizzata alla traffico di migranti, riciclaggio e traffico d'armi. A capo dell'associazione dei kosovari c'era Arben Raxepi che reclutava i migranti da mandare attraverso la rotta balcanica verso l'Italia. I complici portavano in auto i profughi in Svizzera. Grazie ai protocolli di cooperazione internazionale con la polizia cantonale Svizzera e grazie alla collaborazione con il personale del nucleo informativo di Venezia, si sono documentati due distinti episodi di ingresso illegale di migranti in Italia nel 2017. Per arrivare a oltre confine si pagavano 3.000 euro a testa. Arben Raxepi durante la guerra nei Balcani faceva parte di un gruppo paramilità del UECK albanese. La seconda organizzazione criminale gestita a Palermo da Fatmir Liatifi e Giuseppe Giangrosso reclutava cittadini slavi da fare entrare in Italia con falsi contratti di lavoro. Il pregiudicato Dario Vitellaro aveva trovato una società compiacente in grado di assumere in maniera fittizia gli stranieri per far avere loro un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Uno dei fermati della DDA di Palermo che ha scoperto due organizzazioni criminali che organizzavano la tratta di migranti attraverso i Balcani verso l'Italia e Svizzera gestiva un fiorente traffico anche di armi da guerra. Si tratta appunto di Fatmir Liatifi per gli inquirenti aveva la disponibilità di Kalashnikov e bombe che avrebbe venduto a una cellula di combattenti del gruppo paramilitare Nuovo UCK, protagonista nel 2015 di un attentato commesso nella cittadina macedone di Kumanovo. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lovoi e dei PM Ferrara Espiri. Sette mesi fa Liatifi è stato fermato dai carabinieri a Villa Abate di ritorno da un viaggio nel Kosovo. Il materiale che viene sequestrato, cellulare e pc, ha portato gli inquirenti a scoprire un traffico di armi e al riciclaggio di diamanti e di soldi, bottino di furti e rapine. All'indagato sono stati sequestrati video dei diamanti commerciati, del denaro macchiato di inchiostro e delle armi commerciate all'estero. Il 16 novembre del 2016, il 27 settembre e il 20 ottobre del 2017 inoltre, sono stati documentati tre incontri tra Liatifi e un altro fermato, Giuseppe Giangrosso, e un mafioso catanese indagato anche per rapina, traffico di stupefacenti e di armi. Il 16 novembre ai Summit avrebbe partecipato anche il nipote del campo mafia di Belpasso, Giuseppe Pulvirenti, detto un malpassato.